salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi siamo nel secondo giorno della seconda settimana e andremo ad allenare addominale ragazzi oggi è martedì andremo a fare come primo esercizio un normalissimo crunch poi in super serie andremo a fare il crunch laterale e in super serie ancora sarebbe un circuito questo il reverse crunch grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti posso assicurarvi ragazzi è un qualcosa di incredibilmente doloroso altri due serie comunque prima mi sono scordato a dirvi il numero di ripetizioni ovviamente è cambiato il secondo esercizio non è più un crunch laterale ma non mi ricordo neanche come si chiama non fateci caso comunque ragazzi continueremo di nuovo con la nostra serie dopo 30 secondi di recupero grazie a tutti 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 grazie a tutti